Eccomi, sono qui. Dov'è mio figlio? Si è nascosto là dentro. Non si riesce a farlo uscire. Parlate di lui come se fosse malato. Gli altri studenti non aggrediscono i compagni. Che ti hanno fatto? Cosa gli avete fatto? È tarato tuo figlio. Cosa? Siete tarati tutti a due! Perché siamo venuti qui? Volevo portarti a conoscere i tuoi nonni. Non sanno che ci stiamo. Cosa volete? Vi presento mio figlio Marten. Marten è il figlio di Patrick. Assomigli a tuo padre. Qui siete a casa vostra. Perché aver atteso tanto allungo? Non avevo motivo di venire qui. Ma ora Marten non sta bene e io non so più che fare. L'aiuterò a educare Marten. Sarà fiera di lui. Il tuo padre era un grande cacciatore. Tuo nonno ti insegnerà a cacciare. Si è già lamentato per i dolori e le gengive? Sta cominciando. Così presto? È prematuro. Tranquillo. Marten! Anche mia moglie ha avuto qualche difficoltà all'inizio. Era come lei. che ti insegna. Ma che? Ma che? Ma che? Ma che? Ma che? Siamo inserciati.